Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale è dedicata all'attività svolta dai carabinieri di Gela. Bloccati tre giovani intenti a caricare pali dell'illuminazione pubblica tagliati sul loro furgone, i militari dell'arma hanno rinvenuto due tonnellate di materiale ferroso. Il comandante del reparto territoriale, il maggiore Valerio Marra, invita i cittadini a collaborare. Sentiamo. Trasportavano illegalmente del ferro precedentemente raccolto i tre gioresi di 21, 28 e 29 anni sorpresi dai carabinieri del reparto territoriale denunciati all'autorità giudiziaria. Devono rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata. I tre ragazzi con precedenti penali sono stati bloccati in via dell'Acropoli a ridosso del Museo archeologico regionale, intenti a caricare su un furgone materiale ferroso. Si tratta di pali della pubblica illuminazione, oramai pericolanti. Sul furgone, dopo un'attenta ispezione da parte dei militari dell'arma, sono stati rinvenuti anche portieri di auto, tubi, recinzioni ed altro ancora. Ai carabinieri i tre ragazzi hanno riferito che i pali della pubblica illuminazione erano stati tagliati dalla Ghelas Multiservizi e che la stessa si era rivolta a loro al fine di portarli presso un terreno di un privato cittadino al quale servivano per l'illuminazione della sua proprietà. Si trattava, è chiaro, di un fatto non vero. Il materiale ferroso sequestrato ha un peso superiore alle due tonnellate. Noi riteniamo che questo sia un materiale sicuramente di provenienza furtiva, delle quali naturalmente loro non hanno assolutamente certificato e attestato la legittima provenienza e soprattutto l'autorizzazione al trasporto. Adesso le indagini continueranno? Continueranno per accertare anche la filiera, continueranno per verificare soprattutto la provenienza del materiale. Vedremo se c'è qualcuno che ne rivendica anche la proprietà. Noi abbiamo raccolto anche l'allarme di alcuni agricoltori che si sono presentati in caserma e hanno presentato alcune denunce di furto, alcuni danneggiamenti che hanno subito per esempio nelle serre, nelle viti. E su questo siamo stati molto attenti. Anzi invito gli agricoltori, vittime anche di fenomeni di pascole abusivi ad esempio, a segnalare questi fatti immediatamente, chiamando il 112, che è un ottimo deterrente. Quando la pattuglia arriva sul posto viene identificato il pastore, non si dà contezza di chi ha chiamato al pastore o al colui il quale dovesse rendersi responsabile di un pascolo abusivo non autorizzato dal proprietario del terreno. Questo è fondamentale. Su questo io invito molti agricoltori a farlo, così come tanti agricoltori hanno lanciato a noi questo grido d'allarme dei furti nelle campagne. E noi lo facciamo anche attraverso un'attività che va a colpire la ricettazione di questo tipo di materiale e quindi la filiera, quindi questo circuito criminale vizioso che è assolutamente importante che venga debellato e stoppato. L'occasione dell'inaugurazione di sabato della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri al maresciallo ordinario medaglia d'oro Sebastiano Di Me, mi induce a ricordare a tutta la popolazione, ai gelesi in modo particolare, che proprio in quella piazza, in Piazza Roma, sede della Compagnia dei Carabinieri, è attivo il posto fisso già da più di un anno. Posto fisso che osserva alcuni orari molto precisi, che sono dal lunedì al venerdì 8.30, 11.30, 16.19 e il sabato dalle 15 alle 21.00. La domenica e i festivi naturalmente è chiuso. Invito la popolazione, soprattutto del centro storico che abita in piazza, ma anche nelle strade limitrofe, anziché venire qui a recarsi in via Venezia 441, dove comunque è attivo un posto per la ricezione denunce, ad andare lì presso il posto fisso Carabinieri-Gellacento. Comunque attivo e comunque aperto. Il corpo privo di vita di una donna di 85 anni è stato rinvenuto questa mattina nel balcone della sua abitazione nel rione Sant'Impolito a Gela. I carabinieri intervenuti sul posto non hanno dubbi che la vittima si sia suicidata con un filo di ferro utilizzato per stendere la biancheria. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per sfondare la porta dell'appartamento. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Pare che la donna vedova da oltre 20 anni, madre di 5 figli, 3 dei quali deceduti soffrisse da tempo di depressione. L'appartamento è stato trovato in perfetto ordine. Nessun bigliettino è stato rinvenuto nell'abitazione della pensionata, che da anni viveva da sola. Sul posto è intervenuto il medico legale. I carabinieri hanno informato dell'accaduto e il magistrato di turno. Cambiamo argomento. Tavola rotonda organizzata dal nuovo PSI regionale sul tema il territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della città metropolitana di Catania. Si terrà domenica prossima nei locali di Villa Peretti. Oggi conferenza stampa di presentazione. Vediamo. Il PSI si preoccupa dell'ingresso della città di Gela all'interno dell'area metropolitana di Catania. Da dove è nata questa idea e quali saranno i temi che affronterete? Oggi inizia un percorso del nuovo PSI che si apre alla città per spiegare quale sono le nostre iniziative per un sviluppo del territorio non solo gelese, ma del comprensorio. Quindi parliamo di realtà come Niscemi, come Piazza Almerina, che devono creare, secondo noi, i presupposti per andare oltre il contenuto burocratico e il contenitore burocratico che rappresenta la provincia, che rappresenta i liberi consorsi, che rappresenta la città metropolitana. Oggi crediamo che il nostro territorio deve accettare quella che è la sfida. Una sfida di sviluppo, una sfida strategica, una sfida che ci deve permettere, attraverso delle iniziative serie, concrete, di andare oltre. Oltre perché in questo momento la necessità è quella di creare delle strutture reali, concrete, che ci permettono di superare questo momento. Oggi non possiamo permetterci di chiedere aiuto a chi aiuto non è disposto a darci. Oggi noi vogliamo dare un segnale alla città di apertura e di condivisione delle nostre proposte, dei nostri progetti e delle nostre idee. Oggi noi abbiamo l'intenzione di iniziare un percorso condiviso di tavole rotonde, di forum, per aprirci ai liberi professionisti e alle persone, a tutta la gente, che è disposta a un reale cambiamento. Vedremo un po' che cosa potrebbe cambiare con l'ingresso di Gera nella città metropolitana di Catania, peraltro atto voluto fortemente dalla collettività. Se c'è un progetto del territorio si vince, se c'è un territorio forte si vince, se c'è un territorio debole si muore. Qual è il ruolo del partito? Noi abbiamo un progetto del territorio, noi abbiamo elaborato un programma, vogliamo con chi, tipo Franzone, Cordaro, Curreri, verranno quelli di Piazza Ermerina, verranno di Niscemi, Comitati, vogliamo confrontarci non se siamo contro o a favore di chi, noi siamo a favore di un nostro progetto di sviluppo e quindi se la condividiamo, questo progetto di sviluppo è il progetto nostro e devo dire onestamente l'unica via, non perché è un problema contro Caltanissette, è perché è l'unica opportunità che non possiamo perdere, nonostante la classe politica, gli altri come classe politica, sono contrari a questo. Polo oncologico, l'ennesimo scippo, la scelta di destinare il polo oncologico a Caltanissetta non deriva da alcun ragionamento logico, si tratta di una inspiegabile provocazione utile a incrementare la sofferenza del popolo gelese vessato da decenni e quanto scrive in una nota l'Associazione Destra e Movimento. La faccenda assume aspetti grotteschi se si considerano anche le precarie condizioni delle strutture sanitarie a Gela esposte con imbarazzo dalla direttore della Spiacono che non ha potuto non esclamare con velata ironia macellando un'amara verità che ai medici non piace Gela. Diversi studi, dice ancora Destra e Movimento, hanno anzitempo dimostrato in tutti i modi che l'ormai ex perla del Mediterraneo è un sito gravemente inquinato ad alta incidenza tumorale. Eppure una classe politica distante dai problemi dei cittadini e dalla realtà consente la più incredibile delle ingiustizie, lo scippo di un polo oncologico che parrebbe ovvio assegnare alla città col maggior numero di malati. È proprio vero, ci vorrebbe un presidente della regione gelese per porre fine a questi furti a mano armata. Non demordiamo l'auspicio di Destra e Movimento dunque che il polo oncologico venga assegnato a Gela e che venga intitolato a Graziano Biundo, un uomo che ha lottato contro la malattia con immensa forza d'animo. La Gela Butera, sempre più precaria e insicura per tutti i cittadini e automobilisti che la percorrono. Sulla questione è intervenuto Franco Cosca, segretario della Fillea CGL, che nel denunciare l'inerzia della politica e merita problemi irrisolvibili, propone da subito una soluzione che passa attraverso il blocco dell'arteria e l'immediato ripristino. Chi dovrebbe intervenire e occuparsi della manutenzione ordinare e straordinaria di questa arteria stradale? L'ex provincia di Caltanissetta è senza fondi, priva di ogni rappresentanza politica e quindi in mano al governatore Crocetta. Afferma Cosca. Il sindacato si appella in modo particolare ai sindaci dei comuni del comprensorio, Gela, Butera, Mazzarino e Riesi, per un incontro immediato dal prefetto, al fine di evitare che l'insicurezza si trasformi in tragedia per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la strada. Il traffico veicolare, inoltre, ogni giorno di più si sposta e affolla lo scorrimento veloce Gela-Caltanissetta, usurando ancora prima del tempo anche questa arteria di nuova costruzione nella quale quotidianamente si registrano incidenti. Procede a grandi passi il progetto degli impianti di urbanizzazione primaria ad ovest di Gela. Al comune si sono ritrovate le parti coinvolte nella realizzazione delle reti idriche e fognarie, comprese tra il depuratore di Macchidella e la frazione di Manfia. Fatti salvo progetto e finanziamenti, i problemi sollevati da Caltacqua sono stati superati dai pareri acquisiti al tavolo convocato dal sindaco Domenico Messinese. Per il funzionario della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, Salvatore Collura, le opere previste in quanto interrate non mutano l'aspetto esteriore del bene tutelato in area A3, mentre l'impianto di sollevamento ricade in area A1, non sottoposta a vincolo. Il parere di competenza, dunque, potrà essere rilasciato. Anche il libero consorzio di Caltanissetta non ha posto problemi per le concessioni che potranno essere consegnate rispettando le prescrizioni. Sulla titolarità delle aree, invece, il dirigente comunale del settore lavori pubblici Santi Nicoletti ha rassicurato sul fatto che una delibera del 2012 conferma come le strade interessate dei lavori siano acquisite al patrimonio comunale. Ci poniamo in prossimità di un obiettivo che corona mesi di lavoro della giunta comunale, ha detto il sindaco, proprio nelle stesse ore in cui abbiamo appreso delle autorizzazioni regionali per il potenziamento del depuratore consortile e di Macchitella. Ci avviamo, sempre di più, alla conferenza di servizi decisiva per recuperare decenni di ritardi ai danni della civiltà negata alle nostre periferie. I prossimi passaggi riguarderanno la posizione dell'ANAS e l'interferenza di progetto presentata da privati, mentre la regione dovrà esprimersi con la valutazione di incidenza ambientale. Al tavolo hanno preso parte lato CL6, Caltacqua, il libero consorzio e la solitendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta. Per il comune di Gela erano presenti il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Flavio Di Francesco, coadiuvati da Santi Nicoletti e Mario Cernigliaro. Inizieranno domani mattina per concludersi lunedì i lavori di ripristino delle pareti interne dei locali di Viale Mediterraneo e della Camera di Commercio, inagibili a causa di infiltrazioni d'acqua. A comunicarlo è il capogruppo del Partito Democratico, Enzo Cirignotta, dopo aver effettuato questa mattina un sopralluogo con il responsabile della manutenzione del comune di Gela, Angelo Scudera. Cirignotta inoltre ha preso contatto con il conservatore del registro delle imprese di Caltanissetta, Michele Vullo, per ottenere il rilascio della idoneità dei locali, subito dopo il sopralluogo che verrà effettuato dopo la conclusione dei lavori e per poter dunque consentire la riapertura degli uffici nei primissimi giorni della prossima settimana. Salta quindi, come stabilito con il Presidente del Consiglio Alessandra Ascia, la riunione richiesta dai sindacati. Giornata delle scienze. Oggi all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. Una giornata interamente dedicata alle scienze. L'anno trascorso oggi gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela diretto da Viviana Aldisio. Gli alunni si sono cimentati in attività logico-matematiche e scientifiche. L'iniziativa rientra nel piano dell'offerta formativa ed è proiettata al conseguimento degli obiettivi di potenziamento e per la valorizzazione delle eccellenze. Tante le attività laboratoriali che si sono sviluppate oggi proiettate a rappresentare temi e personaggi del mondo delle scienze della matematica e del loro ruolo che hanno nella nostra vita. Abbiamo predisposto una serie di interventi didattici e quindi i ragazzi sono invitati ora a raccogliere delle fotografie ora a mettere in scena delle piccole drammatizzazioni ora a preparare un esperimento con la guida dell'insegnante che ricordiamo deve essere soltanto un facilitatore perché quello che è importante è che loro sentano di essere i protagonisti dell'apprendimento in modo da arrivare alle competenze con un clima di benessere che li fa sentire i reali autori di quello che stanno imparando. Oggi più che mai la nostra scuola si trasforma in un laboratorio un laboratorio a tutto tondo che coinvolge i bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per tutto il giorno sino alle ore 18 in cui tutti si cimenteranno appunto in verticale a svolgere attività diversificate ma che abbiano come tema conduttore le scienze e la matematica. Abbiamo sicuramente sposato rispetto al nostro piano di miglioramento il potenziamento delle competenze logico-matematiche dobbiamo tradurle in attività laboratoriali pratiche laddove i protagonisti gli attori principali siano i ragazzi e sicuramente gli animatori di questa nuova metodologia di apprendimento i docenti che con grande soddisfazione di cui hanno sapientemente interpretato e progettato le attività che noi oggi proponiamo loro. In realtà è un'occasione per anche fare dell'autovalutazione di istituto oggi sarà uno scambio di buone pratiche anche fra le classi quindi i ragazzi saranno i valutatori di se stessi ma nel contempo anche delle attività portate avanti dalle altre dagli altri compagni la scuola deve crescere nei processi di valutazione non possiamo continuare a programmare attività senza ritagliare il giusto spazio a quello che è una valutazione complessiva dell'operato il 5 il 6 e l'8 marzo prossimi torna nelle piazze italiane l'evento Gardenia per ricordare l'importanza della ricerca nel giorno della festa della donna la Gardenia di AISM è la tradizionale manifestazione di solidarietà promossa dall'associazione italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione FISM con il patrocino di pubblicità Progresso la campagna di raccolta fondi vedrà anche quest'anno 10.000 volontari impegnati ad offrire una pianta di Gardenia a fronte di un contributo minimo di 15 euro anche la provincia di Caltanissette e i suoi comuni aderiranno all'iniziativa grazie al contributo di importanti e sensibili associazioni e all'impegno delle amministrazioni comunali che da sempre affiancano AISM con sensibilità e impegno A Gela l'iniziativa si terrà in Piazza Umberto I Piazza Martiri della Libertà Deco Via La Paz Deco Via Le Corte Maggiore Euromarket Via Palazzi Piazza Italia Regina Pacis San Giovanni Evangelista Santa Lucia Sant'Antonio San Domenico Savio e Muretti di Macchitella Sono pronte possono essere ritirate presso l'ufficio di segretariato sociale del comune di Gela le tessere di libera circolazione AST per l'anno 2016 lo reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Bela le tessere hanno diritto al servizio di trasporto urbano ed extraurbano agli anziani residenti a Gela che le avevano richieste dopo l'avviso pubblico del 7 luglio scorso gli uffici di Viale Mediterraneo sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 Ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale prevista per domani alle 17.30 presso la libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gela la presentazione del libro Atlante degli abiti smessi di Elvira Seminara dialogherà con l'autrice e l'avvocato Ausilia Faraci prevista anche una performance artistica degli allievi del liceo artistico Ettore Majorana è stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico le dune gelesi promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolta agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB la FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione al dialogo interculturale il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse tra cui carboncino pennarello matita in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno i disegni migliori 6 per ogni scuola dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente i tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo sono previsti premi in denaro sabato 5 e domenica 6 marzo prossimi si terrà in tutta Italia la quindicesima giornata nazionale Unitalsi il segno della giornata di cui anche quest'anno è testimonio al Fabrizio Frizzi sarà una piantina d'ulivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza in oltre 3.000 piazze italiane il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente sull'intero territorio nazionale al servizio delle fasce più disagiate della popolazione grazie al costante generoso impegno dei propri soci a Gela l'iniziativa si terrà in piazza San Giacomo piazza Umberto I e via Palazzi angolo via Albania una colomba per la vita con la dolcezza si ottiene tutto anche una nuova vita con questo messaggio sabato 5 domenica 6 marzo torna anche a Gela e Muretti di Macchitella l'iniziativa promossa dall'associazione italiana Midollo Osseo presieduta da Giacomo Giurato l'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani soprattutto a diventare donatori di Midollo Osseo nel gazebo e nei desk Admo allestiti per l'occasione dove spiccano le colombe per la vita racchiuse in eleganti confezioni è possibile chiarire dubbi e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di Midollo Osseo continua la prima rassegna teatrale per l'infanzia a Gela sabato 5 marzo prossimo alle 18 presso la casa del volontariato in scena la cicale e la formica si tratta del secondo appuntamento con favole in famiglia prima rassegna di teatro per l'infanzia e l'adolescenza gli interpreti sono Fabio Guastella e Eridiana Petrone che ha curato anche i testi e la regia le musiche originali di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda Tutto pronto per la seconda fase del progetto Elliot 4 il palchetto stage che il centro giovanile musica e arte propone ormai da ben 14 stagioni agli studenti delle scuole di Gela di Enne e del comprensorio saranno proprio le scuole della città Ennese e dei comuni viciniori a partecipare come di consueta la seconda fase del progetto che partirà domani venerdì 4 marzo con la prima delle 4 repliche del musical Cats previste anche nei giorni di sabato 5 venerdì 11 e sabato 12 marzo le 4 repliche di Cats si terranno al teatro Eschio e cominceranno alle 10.30 dopo gli oltre mille studenti delle scuole cittadine che hanno preso parte alla prima fase del progetto lo scorso mese di novembre si prevede adesso un numero ancora maggiore di partecipanti dagli istituti di Enna e provincia testimonianza di un'attenzione importante cui il CESMA è pervenuto dopo anni di intenso lavoro sotto il profilo formativo artistico sociale e culturale una speciale dedica verrà fatta in occasione delle ultime 4 repliche del musical Cats con cui il CESMA vuole ricordare Don Carlo Di Vita direttore della segreteria pastorale della conferenza episcopale siciliana scomparse il 4 marzo di 6 anni fa un amico di tutti i giovani di Sicilia volenterosi e costruttori di una chiesa in grado di mettersi in moto e al servizio con dinamicità e intraprendenza adesso parliamo di sport respinto il reclamo del gelacalcio rimane il risultato di 1 a 1 conseguito in trasferta con la Parmonval lo ha deciso il giudice sportivo vediamo perché in questo servizio non appare che i pur deprecabili episodi avvenuti prima dell'inizio della gara possano avere determinato conseguenze sul regolare svolgimento della stessa e sulla sua altrettanto regolare conclusione infatti essi si sono estrinsecati in invettive verbali nell'assoluta mancanza del dovere di accoglienza ed ospitalità dovuto dalla società Parmonval nei confronti della società ospitata ed in aggressioni nei confronti di calciatori del gelacalcio che peraltro non hanno determinato alcuna conseguenza tale da intaccarne il potenziale atletico non appare poi neppure segnalata dagli ufficiali di gara l'affermata sottrazione dei documenti di riconoscimento dei tre calciatori impediti a partecipare alla gara inoltre non può poi non rimarcarsi come in ogni caso la presenza delle forze dell'ordine è stata sufficiente a garantire la regolarità della gara gli accadimenti in questione posti in essere da persone tesserati riconducibili alla Parmonval vanno comunque fortemente censurati ed adeguatamente sanzionati lo scrive il giudice sportivo della Lega Sicula che ha respinto il ricorso presentato dal Gera Calcio in merito alla gara disputata lo scorso 14 febbraio a Mondello e conclusasi sull'1 a 1 omologato dunque il risultato conseguito sul campo il Gera chiedeva il 3-0 a tavolino per il grave contegno intimidatorio che si è registrato in quell'occasione sin dal proprio arrivo al campo sportivo da tesserati e persone riconducibili alla Parmonval prima con il diniego di far accedere il proprio pullman al parcheggio dell'impianto nonostante libero poi con un'aggressione verbale e fisica subita dai propri calciatori anche da parte di una persona in possesso di un'arma impropria e ancora durante il parapiglia seguito con la sottrazione di una valigetta contenente i documenti di riconoscimento dei propri calciatori poi ritrovata priva di tre di essi appartenenti ad atleti che non è stato possibile impiegare con le ovvie conseguenze che tale forzata decisione ha provocato dal punto di vista tecnico-tattico con un danno sotto il profilo prettamente agonistico la Parmonval invece con le proprie controdeduzioni ha respinto tutto esaminati i rapporti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo uno dei quali presente all'arrivo del pullman del gelacalcio dagli stessi si rileva sottolinea il giudice sportivo che all'arrivo dell'automezzo con i componenti del Gela due persone addette al cancello d'ingresso di cui una identificata quale dirigente della Parmonval negavano l'ingresso dello stesso nel parcheggio interno negando l'ingresso anche ai dirigenti continuando nelle provocazioni ed affermando che li avrebbero trattati male proprio come sono stati trattati male loro all'andata successivamente i commissari di campo gli arbitri e gli assistenti notavano la circa 60-70 metri di distanza che al passaggio dei componenti del gelacalcio che si recavano presso lo spogliatoio loro assegnato scoppiava una rissa tra tesserati delle due società e dalla quale partecipava anche il soggetto non identificato addetto al parcheggio con uno scambio di ingiurie spintoni calci pugni e schiaffi tutto si esauriva con l'intervento della forza pubblica nel frattempo allertata da una dirigente del Gela gli atti adesso sono stati rimessi alla procura federale per accertamenti su quanto segnalato dal gelacalcio nel proprio reclamo e non emerso nei rapporti degli ufficiali di gara e quanto contenuto nelle controdeduzioni prodotte dalla società Parmonval continuano gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 6 marzo alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del trio Antonella Callea al Flauto Lucia Di Mora al Violino e Salvatore Gaglio al Pianoforte fine c'è la pagina dello spettacolo cominciamo con l'informazione cinematografica sono due i film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela alle 17.30 gioia alle 19.30 e 21.30 il labirinto del silenzio il 9 marzo alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito della stagione di cabaret previsto lo spettacolo Tram Tram di lasciate libero lo scarrozzo per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580 termina qua questa edizione del nostro telegiornale grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che servizi notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale alla pagina web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato arrivederci grazie a tutti